Moriero, il lungo lancio verso Zamorano che aggancia bene, al limite, Ronaldo, palla dentro, Ronaldo, ed è il gol di Ronaldo! Dopo 6 minuti e 30 secondi, parco! Sebastiano Rossi è il terzo gol in campionato del brasiliano, il primo su azione di questo campionato. Il tutto al sesto minuto, il trentesimo secondo, da questa triangolazione il tocco di punta che infila in uscita Sebastiano. Pronto Ronaldo, parte il brasiliano ed è gol! Spiazzato Taibi, l'Inter torna in vantaggio. Devo dire che ha aspettato che si muovesse Taibi che tra l'altro è proprio il motivo, non è stato un gol. Ronaldo è passato il pallone, l'alcio è sbagliato l'anticipo, Ronaldo, 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 RONALTO! Pertroppo cade invece adesso sul cronometro e sono 31 i minuti nella ripresa, lancio di Moriero per Ronaldo! Prete! Il reddoppio dell'Inter, corre in area Ronaldo, un block su Rossi ed è in 2 a 0. Pertroppo è stato secco da Cour, poi Ronaldo che prova a partire da più lontano, Ronaldo, schida Maxo e Ronaldo, sinistro! RONALDO! Praticamente non aveva toccato palla fino adesso, sinistro, una via di mezzo, un'esultanza moderata, è vero? Sì, ma lui non ha mai risultato in una maniera eccessiva. Una volta a Madrid si è fatto riprendere che risultavano come gli scarafatti. Ancora Ronaldo, punto l'avversario, Ronaldo, tiro di sinistro, tiro di mani! Il gol! Il gol! Il gol! Il gol! RONALDO! 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 RONALDO!